Senti Paolo, come mai sei voluto venire qui per questa serata? Sono venuto perché sono amico di queste persone che lavorano nella realtà di Montecatone, che sono stato a visitare l'anno scorso. Mi ha colpito come esperienza? Mi ha colpito, se posso, visto che mi considero comunque una persona fortunata, ora cerco di mettere a disposizione quello che ho avuto per la gente che ne ha più bisogno. Nel mio piccolo, piccolo in tutti i sensi. Piccolo però fai sempre dei grandi spettacoli oggettivamente. Paolo, so che hai avuto anche qualche scambio con alcuni dei pazienti, hai stretto anche delle relazioni personali. Ma sì, l'anno scorso ho conosciuto delle persone in situazioni che vivono in una situazione non facile, ho cercato con le mie patacate di tirarle un po' su e adesso questa sera le rivedo finalmente. Questa sera le rivedrai, sicuramente ce l'hai fatta, come tirerai su anche tutte le persone. Il grande pubblico che questa sera ci si aspetta veramente tante persone. Siete riusciti a chiamare un bel po' di molesi? Speriamo, speriamo, dai speriamo. Di sicuro il vostro lavoro, la vostra opera sarà ben accetta, anche perché abbiamo ricordato prima con Claudio che il progetto Adotona Stanza impegna 200.000 euro, sono una cifra che per un'organizzazione di volontariato non è sicuramente poco. Paolo, ti impegni a ritornare, magari a vedere, a trovare i ragazzi su Montecatone ogni tanto? Sì, ho già promesso, ho già promesso che vado a vedere sicuramente. Una volta che uno comincia non può mollare. Quindi aspettiamo di rivederti. Va bene.